Salve a tutti, in questo video vediamo come trovare Cometa Infernale di grado A su Final Fantasy XVI. Dobbiamo andare giù a Fauci, quindi facciamo viaggia, e qui dobbiamo andare in questo punto della mappa, proprio qui. Quindi partiamo, attraversiamo la prima parte del deserto, passiamo attraverso il passaggio, poi percorriamo il ponticello e infine a questa struttura svoltiamo a destra e arriviamo qui. Troveremo alla nostra destra il ciocobo impazzito, Cometa Infernale di grado A. E adesso non ci resta che sconfiggerlo, nonostante sia di grado A comunque non è un gran nemico da battere. Un saluto.